Ci sarebbe stata una rissa prima di Pasqua al programma televisivo di Mediaset Forum, il programma per eccellenza che si occupa di cause che ci possono essere tra due persone diverse. E diciamo così, infatti, Luisa e Adriana, rispettivamente moglie e madre di Pino, sarebbero stati al centro di questa rissa tra donne durante il ricevimento di matrimonio. La questione, diciamo così, vera e propria per cui le donne si sarebbe rivolte a Forum, sarebbe una questione anche abbastanza importante, tra virgolette. E ci sarebbe stato questo spettacolo che per molti versi sarebbe stato considerato davvero particolare tra frecciatine diverse, insulti e diverse urla di tipo sguagliato, alla grana davvero da commedia greca, ma anche da canzoni neomenodiche. Questo dunque sarebbe quanto. Ti ringrazio per l'ascolto e infine per la visione. Il video termina qua. Un saluto. Questo video non vuole assolutamente le lea della praosi di Adriana e Luisa, ma solo informare eventuali persone di quello che sarebbe accaduto prima di Pasqua a Forum, un programma di Causi su Mediaset. Saluti al prossimo video e grazie.